Giù, 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 giù. Vedi quel nome? Sì! Beh, è del player che gioca. Ok, possiamo chiamarlo Ryan, ok? Ok. Perché oggi noi lo spieremo. Siamo nella nostra vanilla, raga. E lui? Eccolo A! Gira intorno alla sua casa. Madonna, giù, sta arrivando, sta arrivando, sta arrivando, sta arrivando. Io ho un po' di pozioni di invisibilità. Non ci credo, allora. Allora, c'hai le pozioni? Che ti ho dato? Non ci ho visti. Ok, beviamo? Sì, sì, sì. Vieni, 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 vieni. Come sei? Con che, raga? Abbiamo giocato un botto. Oh, mio Dio! Giù, 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 vedi che... Raga, quanto abbiamo giocato ieri sera? Madonna. Poi abbiamo trovato un sacco di diamanti. Non corre, non è che ti vede. Guardate la spada come ce l'ho. c'ho un aspetto a fuoco, non è la spada. È allucinante questa cosa. Oh, bravo, dobbiamo andare. Andiamo, andiamo. Allora, adesso iniziamo un po' se... Tu dove sei? Io tengo l'axolo a te in mano. No, no, no. Sì, 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 così magari sai tu dove sono. Io sono dove eravamo prima. Aspetta, raga, metto un attimo giorno. No, no, metto giorno. Ok, ok. Ok. Ma, io sono qui guardava un po' le... Dove? Oh! C'è visto, c'è visto, c'è visto, c'è visto, c'è visto, c'è visto. Ok, no, non c'è. No, non c'è visto. Allora, non... Ma che sta andando? Aspetta, io gli dico che stiamo nel... No, 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 poi... Stai andando le cose! Aspetta. Io e Giuseppe ci siamo persi. Aspetta. Persi. Persi! Ma fa niente tu tieni il villaggio al sicuro. Al sicuro. Ok, adesso così è un pochino più convinto che noi non ci siamo, ok? Ok, ok, ok. Perfetto, 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 perfetto. Io sono a casa tua. Ah, cosa sta andando a lui? No, giù, vedo le bolle, le vedrà anche lui, quindi. Anche io vedo le tue. Io mi avvicino un po'. Ma è bravissimo, guarda! Sì, no, no, lui è bravissimo, togli anche... Oh, cacchio, che cosa ho fatto? Oh, cacchio. No, fra... Leva quel coso! Giù, 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 ho preso... Leva, no! Ok, non ha visto, non ha visto, non ha visto. Allora, ogni tanto controlla quanto hai di... Di, 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 di... Controllalo tu che io ho la webcam di... Con 5 minuti. Ok, ok. Quando l'abbiamo bevuto insieme, giusto? Diciamo. Ok, ok Tu di mano Dove, dove, dove Tieni un qualcosa in mano Io tengo la spada Oh, cacchio L'ho visto giù, l'ho visto Ok, dai, avviciniamoci No, leva, leva Dove siete? Eh, che gli dico Ci siamo persi Scrivili però Tu non ti allontanare dal villaggio Stai lì a proteggerlo, digli questo, ok? Digliela, digliela, digliela Non mi va Voglio esplorare Ah, cacchio Qui ho rischiato Tu dove sei? Tieni qualcosa in mano quanto io ti vedo Io sono vicino al tribunale Allora, lui è al tribunale, lo vedi? No Incontriamoci davanti al tribunale No, no, c'è lui davanti al tribunale Eh, sì, sì, sì Davanti al tribunale, giù, nell'entrata Nell'entrata del tribunale Vieni, all'entrata del tribunale Ok, aspetta, non posso correre Perché? Perché se non mi vede Eh, vabbè, fa niente Lo sai, io ho la spada in mano Tieni qualcosa in mano Ciao Allora 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 Vieni Io per ora tengo Io ho un minuto Qualcosa in mano Io direi di bere Vuoi bere? Io lo ripeto Io non lo so quanto tempo ho Ok Io ho un minuto Mi tengo pronto Allora 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 8 minuti Io mi tengo pronto Ok No, io ho già bevuto È rotto Quindi lo butto Io ho già bevuto Io no Appena vedo che la mia mano Non è più invisibile Io bevo Ok Allora Lui Io non so cosa sta facendo Comunque Io Io voglio fare un test Vabbè Davanti casa sua Io voglio fare un test Adesso Io metto che Notte Vediamo come se la cava di notte Vediamo come se la cava di notte Ti piace come test questo? No No Non dormi No No Tanto non dormi No No Scrivi lì È un test Non possiamo dormire Ok Vabbè Allora Dilli È un test Per vedere Come se la cava di notte Forse mi ha visto Oh Io bevo di nuovo Io Io me la bevo di nuovo Ma chi è cosa? Fra Mi ha visto Ha visto Ha visto le bolle E ora forse ha visto E la pina Guardalo qui La casa sua Ah giù Ci ha sgamati Ci ha sgamati Siamo Noi Era 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 Per Un Video No Aiuto Aspetta me Me lo metto anch'io L'armatura Guarda Io mi metto Questo Ah 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 Lui Ah 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 Va bene Che spaventa Ragazzi Si è spaventato Pensava che era qualcun altro E Vabbè Possiamo finire il video qui Quindi Ragazzi Per questo video è tutto Ciao 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 Grazie a tutti.